Buongiorno, sono il maestro unico. È la quinta ora, vero? Ho fatto 7.000 km. Prima ora a Chamonix, la seconda a Palermo, la terza in Sudafrica, il pezzo del passaporto. Allora, dunque, c'è qualcuno che può venire a farsi interrogare, ragazzi. Unì? Già noi, può venire te? Marcacci? Andrea Marcacci, può venire nemmeno te. Va bene. E allora Marcacci, enunciami il concetto di moto a luogo figurato. È inutile che cerchi fanculo sull'Atlante perché tanto non lo trovi. E poi vergognati per quello che è scritto nel compito in classe, lo vogliamo dire a tutti? La domanda era semplicissima, Yannica. Chiedono gli antenati degli incas e che mi hai detto gli schiantas. Penso che più di questo non ci sia bisogno di aggiungere altro se non il fatto che sei bocciata anche quest'anno. Mi dispiace. Grazie. 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 Grazie.